Presentazione nella sede della cooperativa sociale L'Arca di Noè a Badue di Carolei del programma di volontariato Compagni per Sempre. A promuoverlo il centro socio-culturale Vittorio Bacelei di Cosenza è in partenariato con organizzazioni di volontariato del territorio e sostenuto dalla Fondazione Conil Sud. Presente all'incontro ha anche rappresentanti delle istituzioni locali e del programma. Questo progetto è nato da un nostro precedente progetto che era Compagni di Viaggio. E appunto io dicevo se ci fermiamo solo a questo progetto vuol dire che siamo falliti, non riusciamo ad andare avanti. Abbiamo presentato un altro progetto chiamato Compagni per Sempre e andremo di nuovo a prolungarlo. Obiettivo del programma quello di contrastare il fenomeno dell'esclusione sociale e offrire servizi a persone in condizione di disagio. Questo progetto che è sostenuto dalla Fondazione Conil Sud ci apprestiamo ad aumentare il capitale sociale della città di Cosenza. Perché con questo progetto non si fa altro che andare a dare un'organicità all'attività che di solito già il centro Bacelei svolge all'interno della città di Cosenza da oltre 30 anni perché il centro Bacelei si occupa di problematiche della famiglia e delle persone meno abbienti dal 1981. Adesso siamo nel 2015 quindi un'attività ormai compassata che aveva bisogno di una certa sistematicità e organicità e coordinamento. Questo progetto ci ha la possibilità di rendere le attività che il Bacelei svolge quotidianamente con più organizzazione e con più sistematicità.